Salve carissimi amici tutubi qui Francesco e bentornati nella soffitta di camera mia o benvenuti se è la prima volta che venite a visitarla questo è un video che non pensavo di fare, non pensavo di fare in questa veste, non pensavo di fare adesso sapete che di solito non pubblico i video di sabato ma visto l'occasione e quant'altro ho scelto di rendere questo video una sorta di speciale per il canale per quanto sarà molto simile ad altri video del canale per l'appunto, vi parlerò di una storia non particolarmente lunga ma particolarmente importante per quel che rappresenta ho infatti avuto modo di leggere Uncle Scrooge and the Infinity Dime nella sua edizione per Kindle e quindi eccomi qua a parlarne c'è stata molta confusione in merito a questa storia, chi la riteneva essere una serie perché giustamente la serie è stata proposta con un numero 1 nelle varie solecite, nei vari siti americani ma giustamente anche i singoli one shot vengono in un qualche modo numerati per essere catalogati in una qualche maniera giustamente un lettore non avvesto al mercato americano questa cosa qui non se la poteva aspettare o non poteva saperla sono uscite poi tutta una serie di cover variant delle quali ne ho prese ben due, ho preso sia l'edizione regolare che un paio di variant ve le avrei volute far vedere ma ancora non mi è arrivata l'edizione cartaccia comunque l'edizione regolare vede questa splendida cover ad opera di Alex Ross una cover veramente magnifica come solamente questo autore americano saprebbe farci, saprebbe darci la storia è orchestrata su quattro capitoli presenti tutti e quattro all'interno di questo singolo volume quindi analizzeremo tutta la storia nel suo insieme ma prima di analizzarla, sigla cercherò di limitare proprio al minimo gli spoiler anche perché non credo che ci sia bisogno di fare spoiler per parlare di questa storia perché già dall'incipit molte delle cose che succederanno sono ampiamente prevedibili ma non per questo mancanti di un significato e di un valore anche piuttosto profondo e che vanno a simboleggiare quanto l'autore, Gesonaro, un autore americano importante e famoso per aver scritto quella piccola serie del suo Thor fondamentalmente un ciclo immenso, magnifico e che consiglio a qualunque fan dell'universo Marvel e della serie sugli Avengers, quella la consiglio un pochettino meno per l'appunto ma qui dimostra quanto Gesonaron abbia amato questo papero ed è anzi proprio con una lettera aperta da parte di Gesonaron che si apre il volume Why I love this duck una paginetta nella quale Gesonaron ci racconta il suo rapporto con Zio Paperone di questo tipo di personaggio prima che poi la storia cominci in maniera proprio effettiva una storia che inizia ricollegandosi proprio al Natale sul Monte Orso con un paperino e qui qua qua che decidono di fare un qualcosa di diverso e quindi proprio in virtù di questa decisione completamente differente Zio Paperone non avrà mai l'occasione, l'opportunità di incontrare Paperino e i nipotini di stringere un legame con loro e questo lo porterà ad essere ancor più solitario ancor più arcigno, ancor più arrabbiato con tutto e con tutti al punto che deciderà complice anche un certo determinato strumento di andare in giro per il multiverso a rubare e derubare fondamentalmente le numero uno e i depositi degli altri paperoni del multiverso ed è proprio in relazione al fatto che tenterà di fare questa cosa al nostro paperone definiamolo così che per l'appunto inizierà con questo evento la trama vera e propria con Paperone che dovrà affrontare una versione di sé in un qualche modo malvagio e corrotto un paperone che non si farà scrupoli, farà di tutto per conquistare ogni singolo tesoro non del proprio pianeta ma di ogni possibile multiverso e questa qui è di fatto la trama di fondo con quello che potremmo aspettarci come naturale conseguenza con un nostro paperone che dovrà trovare il modo di affrontare il viaggio trovare e affrontare la sua nemesi una nemesi che in questo caso è una nemesi proprio per eccellenza è la sua versione antitetica anche se differisce apparentemente per un unico elemento un unico elemento che però lo rende una versione completamente malvagia di sé il tema del doppio in una qualche maniera che si orchestra in questo caso in un viaggio multiversale quindi un tema particolarmente caro e particolarmente legato all'universo Marvel ma qui applicato in sé nei personaggi Disney una trama quindi molto molto semplice che procede per la trentina di pagine che compongono la storia dovrebbero essere proprio trenta le pagine che compongono la storia se non ho sbagliato contarle nella quale si alternano quattro disegnatori diversi Paolo Mottura, anzi cinque disegnatori diversi Paolo Mottura, Francesco Di Polito, Alessandro Pastrovicchio e Vitale Mangiatordi e Giada Perissinotto in una storia che procede in maniera molto lineare ma che, come ho avuto modo di dire all'inizio ci mostra quanto il personaggio di Paperone sia stato amato da Gesonaron perché? Perché riesce con poche battute in alcuni momenti chiave a ritrarre alcuni degli aspetti più significativi del personaggio a metterli in luce per quella che è la visione che si ha, anzi che Gesonaron ha del personaggio una visione lievemente distinta, leggermente differente da quella nostrana più legata, se vogliamo, all'immaginario e all'universo di Don Rosa e all'universo di DuckTales basti pensare che le prime pagine del secondo capitolo quello disegnato da Francesco Di Polito si aprono con un viaggio in aereo che ricordano molto più le storie di DuckTales che non le storie, per l'appunto, di Carl Barks o di Don Rosa ma che comunque è un immaginario molto caro all'universo americano e alcune battute che Paperone fa nel corso della storia non mi sono sembrate adattissime al 100% mi sono sembrate, o meglio, non è che non mi siano sembrate adatte sono adatte al tipo di personaggio per l'interpretazione che si ha in America del personaggio tramite, per l'appunto, la visione di DuckTales e le storie di Don Rosa in primis e di Carl Barks un tratto distintivo, un tratto linguistico leggermente diverso ma che comunque è funzionale è funzionale alla storia e che comunque, nonostante queste lievi differenze sto pensato ad un Artibani non lo farebbe parlare in questa maniera a Zio Paperone ma ho citato Artibani non per caso perché in Zio Paperone e l'ultima avventura ha ritratto Paperone, secondo me, definitivo e Jason Aaron sembra riprenderne certi suoi aspetti di quella versione di Zio Paperone tanto per simboleggiare quanto questo personaggio sia universale e quindi di conseguenza sia affrontabile da tantissimi autori diversi e se ne si estrai il nucleo del personaggio e lo si mette in un qualche modo a nudo si ha quindi modo di vederlo per quello che è per come è al di là delle differenze linguistiche o del tipo di storia che si va a costruire attorno a questi personaggi se il nucleo del personaggio rimane coerente con se stesso allora la storia rimane coerente con se stessa una storia suddivisa, come dicevo, in quattro capitoli per come l'andiamo a vedere per quello che è, per l'appunto, la struttura di questa storia sappiamo bene che le storie usualmente sono divise in tre atti le famose storie a tre atti dove si ha un inizio con la problematica che emerge un secondo atto dove si va a ricercare una soluzione per il problema, per l'appunto, presentatosi e un terzo atto un pochettino più risolutivo a livello narrativo c'è qualcosa che non funziona all'interno di questa storia e qui lo dico chiaro e tondo non ho problemi a fare spoiler su questo perché non ci sono spoiler fondamentalmente perché vi ho detto che la storia è suddivisa in quattro atti in realtà il primo capitolo, vero e proprio è tranquillamente intellegibile come prologo è la storia del paperone malvagio proprio il prologo è quello ci mostra, per l'appunto, questa vicissitudine il secondo capitolo rappresenta, di fatto, quello che è il primo atto di una storia con la minaccia che va a rompere lo status quo lo status quo usuale dei nostri personaggi il capitolo della storia però si presenta come già l'elemento risolutivo manca completamente all'interno di questa storia un secondo atto o meglio, è presente, è intellegibile un secondo atto ma viene limato all'osso per favorire scene decisamente più di ampio respiro decisamente più di intrattenimento decisamente più d'azione rispetto a quello che mi sarei aspettato o a quello che avrei voluto leggere all'interno di questa storia quindi il secondo atto che era un po' quello che mi interessava in realtà perché la premessa narrativa ok, quella lì ce l'avevamo e le potevamo leggere nelle sole citae americane la risoluzione per quanto mi riguarda era abbastanza scontata in realtà è perfettamente in linea con il tipo di storia che ci viene proposta e con la narrazione che ne viene fatta quindi nulla di male, non sto dicendo che se è scontata allora la storia è brutta tutt'altro il fatto che sia coerente a me è una cosa che piace però il secondo atto all'interno di questa storia manca completamente, viene completamente clissato in una maniera un po' fastidiosa perché si ha proprio la sensazione di avvertire un time skip un salto temporale da quella che è la presentazione della storia a quella che è poi la sua conclusione e il tentativo per l'appunto da parte dei protagonisti di risolvere la situazione e poi presente, ve l'ho detto, un quarto capitolo disegnato da Giada Perissinotto che di fatto è l'epilogo sono letteralmente le ultime due pagine al netto di un secondo atto mancante in maniera quasi completa la storia risulta quindi comunque comprensibile e decisamente più virata sull'aspetto action decisamente più virata all'azione e un pochettino meno all'introspezione finendo quindi per essere di fatto un giocattolone e molto probabilmente il giocattolone che potremmo aspettarci fin dall'inizio della lettura di questa storia vi dicevo che quattro sono i disegnatori e spero di farvi vedere qui da qualche parte alla mia destra o alla mia sinistra alcune delle tavole avrò selezionato indubbiamente le cose meno spoiler possibili per quanto riguarda l'epilogo penso che vi farò vedere una singola vignetta semplicemente per il fatto che Giada Perissinotto all'interno del suo epilogo mostra praticamente ogni cosa della storia quindi cerco di limitarmi e di mostrarvi una singola vignetta per mostrarvi per l'appunto lo stile estetico e in realtà secondo me l'epilogo è la parte meno riuscita Giada Perissinotto ha uno stile che secondo me non era del tutto adatto all'interno di questa storia perché ha tutto un secondo e terzo atto molto muscolare, molto muscoloso, molto possente Francesco Di Polito, Alessandro Pastrovicchio Vitale Mangiatordi sono tutti autori che anche sulle pagine del Topolino ho sempre avuto modo di dire che hanno uno stile molto muscolare molto legato, molto vicino se vogliamo allo stile anche di Lorenzo Pastrovicchio Giada Perissinotto l'ho sempre vista con un pochettino più delicata in una qualche maniera molto adatta ad altre tipologie di storie qui l'ho trovata un po' stonata e soprattutto con troppi personaggi da mettere in scena in pochissimo tempo la sua parte non è particolarmente confusa però non l'ho trovata del tutto a suo agio si tratta comunque di un paio di paginette e in realtà lei è l'unica disegnatrice immediatamente riconoscibile all'interno del roster di disegnatori questo perché, come ho avuto modo di dire Francesco Di Polito, Alessandro Pastrovicchio e Vitale Mangiatordi che costituiscono il nucleo centrale di questa storia hanno uno stile molto muscolare che complice anche il chinatore e la colorista in questo caso Arianna Consonni tende un po' tutto ad amalgamarsi ad un'occhiata un pochettino più attenta sono tre taratti molto distinguibili quindi riconoscibilissimi per gli amanti e per i conoscitori dello stile visivo ma ad una lettura un pochettino più distratta ma neanche più di tanto cioè, leggendo semplicemente la storia non è detto che si possa riconoscere effettivamente questo cambio di disegnatore non è così immediato complice in realtà anche il fatto che non sempre ci sono tutti i personaggi in scena quindi questa cosa qui magari ha anche aiutato però, diciamo che secondo e terzo atto se mi avessero detto che c'era un unico disegnatore ci avrei creduto anche Paolo Mottura che introduce la storia è molto poco Paolo Mottura lo suo stile è particolarmente sporco qui viene praticamente limato all'osso è uno stile decisamente molto 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 pulito molto asciutto c'ha qualche ombreggiatura un pochettino più particolare in alcune pose si intuisce che sia suo il tratto ma anche qui se mi avessero detto la storia è disegnata tutta da un unico disegnatore ci avrei quasi potuto credere ok? tranne per l'epilogo l'epilogo sicuramente era un'altra mano in maniera molto tangibile questo un po' mi dispiace perché i nostri autori non sono stati secondo me valorizzati al massimo per quanto lo siano stati credo che sia stati felici di partecipare a questo tipo di iniziativa ma si vede che hanno molto in qualche modo omogenizzato lo stile hanno cercato di rendere il loro tratto il più simile il più pulito il più regolare possibile complice probabilmente il fatto che doveva essere una pubblicazione così particolare così doveva essere alla porta di tutti doveva essere una storia per la Marvel e quindi si è cercato di essere il più lineare il più puliti possibili mi è spiaciuto in parte ma indubbiamente alla fine quello che si può leggere all'interno di questa storia è uno stile decisamente molto molto pulito e quindi proprio preciso pulito molto 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 la colorazione è comunque buona con delle buone ombreggiature con dei bei giochi di luce e ombra e con anche quando ci sono diversi personaggi in scena hai sempre bene l'idea di chi siano i personaggi anche semplicemente guardando la loro palette cromatica che sembra una banalità da dirsi ma non lo è quindi ok secondo me è stato fatto un buon lavoro anche sotto questo punto di vista e sono quindi stato piuttosto contento del lavoro svoltosi proprio all'interno di questo capitoletto capitoletto di una trentina di pagine vado a ricordarvi indubbiamente il fatto che in casa Marvel abbiano voluto riomaggiare il personaggio di Paperone dei Paperoni è molto importante e spero che possa portare ad avere altre storie di questa caratura una storia che non è un capolavoro non lo è sotto tantissimi punti di vista non è una storia che verrà ricordata negli annali come la migliore storia sui paperi è una storia che ha un gusto molto differente da quello nostrano quindi per gli amanti dei fumetti Disney in Italia questa storia potrebbe non piacere del tutto me ne rendo assolutamente conto perché è proprio uno stile un gusto anche di scrittura molto difforme quindi immagino che questa storia possa in realtà piacere in primis agli amanti della Marvel che potranno trovarci un autore importante a scrivere questa storia è uno stile che va a ricordare molto per l'appunto lo stile Marvel ma al tempo stesso una chiave di lettura così universale sul personaggio che è molto legata a com'è davvero il personaggio quindi per chi non conoscesse Zio Paperone qui ci troverebbe davvero l'essenza del personaggio e potrebbe quindi andare a ritrovarla in eventuali altre letture che potrebbe fare nel corso della sua vita e della sua carriera all'interno dello spillato americano oltre alla storia Uncle Scrooge and Infinity Dime è presente integralmente Natale sul Monte Orso quindi Christmas on Beer Mountain di Karl Barks la storia dove è nato Zio Paperone non ho capito il perché di questa scelta ma me la faccio andare bene così e in fondo c'è un pochettino di boss e bozzette e un teaserino di What If che è del primo What If che uscirà prossimamente disegnato già da Paris in otto con Paperino che per qualche motivo vesterà i panni di Wolverine ve lo dico qui come unico spoiler di questa quanta la storia ero abbastanza convinto visto che c'era questa linea What If con Paperino protagonista che queste versioni di Paperino le avremmo viste all'interno della storia e invece no non c'è Paperino Thor e non c'è Paperino Wolverine né eventuali altre versioni di Paperino che potrebbero uscire prossimamente perché sicuramente quella linea editoriale non finirà con quei due capitoli sono abbastanza certo abbastanza sicuro però me lo faccio andare più che bene così Anclo Scudge in Infinity Dime è sicuramente una storia molto interessante che vi consiglio di recuperare sul topolino di prossima uscita perché sul prossimo numero di topolino il 3579 sarà presente questa storia ho un po' paura di vedere non tanto come verrà adattata perché non è che ci siano cose molto strane da adattare quindi mi immagino che l'adattamento possa essere abbastanza semplice e lineare a livello di testi ma l'impaginazione mi preoccupa alquanto perché la diagonale delle storie americane è molto più alta è molto differente il nostro topolino è sì rettangolare ma è quasi più quadrato Marvel è molto più propenso ad andare verso l'alto è molto più alta è una diagonale completamente diversa ho paura che possa esserci fin troppo margine all'interno delle pagine di topolino ma quello lo scopriremo per l'appunto quando uscirà la storia sul topolino è indubbiamente una storia che va a rivalorizzare questo personaggio e questi personaggi anche nel mercato americano cosa che sinceramente mi fa piacere perché vuol dire che magari ci tornano a credere a questi personaggi e torneranno quindi a crearci un mercato attorno non solo di ristampe del vecchio ma anche di realizzazione di prodotti interessanti nuovi non un capolavoro ma una buona lettura che vi consiglio sinceramente di fare e qui lo dico in chiosa questo video fate attenzione perché in giro ho beccato un paio di spoiler in giro per quanto la gente sia convinta che non sia uno spoiler però mi chiedo come sia possibile questa cosa perché effettivamente c'è parecchia gente che ha già visionato la storia ha già letto la storia ha già avuto modo di parlarne quant'altro e ha voluto divulgare di fatto immagini anche di parti più che avanzate della trama stessa non sono completamente d'accordo con questo modus operandi in primis perché la storia non era ancora trovabile in italiano sappiamo che esce settimana prossima in Italia quindi si poteva aspettare non tanto per mostrare qualche vignetta qua e là qualche pagina qualcuna delle prime pagine in qua e là penso che si possa e si voglia fare per invogliare l'eventuale lettore indubbiamente mostrarmi una scena clou della storia stessa va a rovinare molto dell'impatto che quella scena possa avere nel corso della lettura a me sinceramente l'ha rovinata averla vista in anticipo e sinceramente questa cultura dell'hype per la quale mi sono sentito costretto a dover leggere la storia tanto da arrivare ad acquistarla in digitale nonostante abbia acquistato tre copie cartacee di questa storia della versione americana perché se accedevo ai social andavo a rovinarmi la lettura mi sembra che si stia passando decisamente un po' troppo il confine decisamente un po' troppo va bene essere fomentati va bene essere in hype ma andare a mostrare parti clou della storia che vanno a rovinare l'esperienza dell'utente a me sinceramente non mi invoglia ad andare a eventualmente acquistare la storia o mi andrebbe di farlo magari sotto banco perché la storia non è reperibile la storia in questo momento non è reperibile in italia in maniera così agile tra l'altro mi hanno chiesto come fare ad acquistare l'edizione kindle io non ho avuto problemi di acquistarla direttamente da amazon perché effettivamente non ci si riusciva non so se la questione sia perché ho acquisto da diversi anni prima tramite comixology e quando amazon ha acquistato comixology ho continuato ad avere un account valido in una qualche maniera o se ci sono altre complicazioni sinceramente non ho mai avuto problemi non mi hanno mai dato problemi l'acquisto dei volumi in digitale americani quindi nel caso chiedo a voi se avete avuto problemi e nel caso di segnalare se avete risolto come avete risolto perché letteralmente da me non dà problemi quindi me ne sono stupito anch'io quindi nel caso diamoci una mano tutti quanti assieme e in realtà di questa storia ne riparleremo tra virgolette con la lettura del prossimo topolino sicuramente questa storia sarà nella classifica del topolino della prossima settimana penso che possa essere facilmente la storia tra la prima e la seconda posizione io mi auguro che la storia di Giorgio Salati mi continui a piacere quanto mi sta piacendo adesso me lo auguro davvero tanto però se questa storia qui dovesse essere la migliore del prossimo album per diverse motivazioni ne sarei comunque felice è comunque una storia che comunque ha saputo dire la sua non una storia imperdibile ok una storia importante per il mercato americano per ciò che può smuovere nel mercato americano non un capolavoro ma una buona storia che indubbiamente secondo me vale la pena di essere letta e in più è letteralmente una lettera d'amore da parte di Jason Aaron a questo autore e chissà che magari non ci regali altre storie ce lo auguriamo detto questo da Francesco della soffitta di camera mia è davvero tutto vi ricordo che al solito se volete conoscere un pochettino di più degli autori che hanno realizzato questa storia nello specifico quindi Paolo Mottura se non Alessandro Pastrovicchio Giorda Perissinotto Vitale Mangiatorti o Francesco Di Polito potete andare sulla Paperpedia wiki e visitando la wiki scoprire qualcosa di più di questi autori e quali altre storie eventualmente hanno realizzato potete anche contribuire alla stesura della wiki nel caso vi lascio il link in descrizione da Francesco dalla soffitta di camera mia per oggi è davvero tutto e noi ci vediamo e ci leggiamo in una prossima video opinione del canale ciao